Sobrietà, e questa è la parola d'ordine della 717esima edizione della Perdonanza Celestiniana che si terrà nel capoluogo abruzzese dal 23 al 29 agosto. La perdonanza si rifà alla bolla del perdono che Papa Celestino V emanò dall'Aquila il 29 settembre 1294. Come negli anni passati, la settimana di festeggiamenti sarà animata da spettacoli, concerti, mostre d'arte e di artigianato, rievocazioni storiche, iniziative culturali e di intrattenimento. Per la prima volta dopo il tragico terremoto del 6 aprile 2009, l'apertura della Perdonanza martedì 23 agosto alle ore 20 si terrà nuovamente a Piazza Palazzo, dove ci sarà l'arrivo dei tedofori con la fiaccola e l'accensione del tripode. Dalle ore 22 al Parco del Sole, invece, grande concerto di Piero Mazzocchetti. Rispetto alle scorse edizioni, ci sono alcune interessanti novità come gli aperitivi letterari nel centro storico e il sentiero del perdono e della pace, una marcia che il 27 agosto da San Pietro della Ienca arriverà fino alla Basilica di Collemaggio. Domenica 28 agosto alle ore 16, il corteo storico della bolla di Celestino V attraverserà la città partendo dalla sede municipale di Piazza Palazzo per raggiungere il piazzale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove avverrà la tradizionale apertura della Porta Santa con la celebrazione della Santa Messa all'interno della Basilica. Tra gli eventi principali, sabato 27 agosto, concerto dei Velvet, e lunedì 29 agosto, concerto di chiusura affidato alla splendida voce di Noemi.